La sinistra c'è, parliamoci chiaro, Salvini è la persona di destra adatta a compattare la sinistra, è talmente virulenta la cosa che la sinistra è disposta anche a soprassedere su tutte le sue differenze interne e a compattarsi contro un nemico così virulento. Poi si tratta di capire cosa succederà adesso se Zingaretti vince, come io spero e come mi pare che avvenga, sicuramente una differenza rispetto alla gestione di Renzi ci sarà. Professore De Masi, dentro questa crisi di 5 Stelle il rapporto con il PD, la sinistra, c'è ancora spazio? Partendo da quello che è successo a marzo con le elezioni, i 5 Stelle fanno un primo approccio con Salvini escludendo la possibilità di un governo con Berlusconi. Il PD è un partito perdente a tutti gli effetti, non accetta questa sfida, che era analoga alla sfida di Salvini, perché Salvini andando col Movimento 5 Stelle doveva comunque avere a che fare con una corposa parte di sinistra che nel Movimento c'era. Nel Movimento 5 Stelle c'erano i voti di 1.800.000 ex votanti PD, c'erano i voti del 48% di operai, c'erano i voti di 1 su 3 degli iscritti della CGL. Quindi in questo mucchio di sabbia, che è il Movimento 5 Stelle, i granelli di sinistra sono forse più di quelli di destra. Chiunque avesse fatto l'accordo con i 5 Stelle avrebbe dovuto comunque superare una sfida profonda con una parte del Movimento che non era d'accordo. Salvini questa sfida l'ha accettata e l'ha vinta, parliamoci chiaro, ha spolpato i 5 Stelle, cosa che da destra, cosa che avrebbe potuto fare da sinistra invece il PD. Parlando con Gentiloni, Gentiloni mi disse tempo fa una cosa molto importante, secondo me. Mi disse che si può fare un accordo tra PD e Movimento 5 Stelle solo il giorno in cui il PD abbia almeno un voto in più del Movimento. Cioè lo possa fare in chiave egemonica, non in chiave subalterna. Secondo me è probabile che alle prossime elezioni questo avvenga. Cioè che scendi scendi il Movimento 5 Stelle, il PD si ritrova non per sua virtù, ma diciamo per difetto di 5 Stelle a superare questo partner avversario. Insomma le prospettive quali potrebbero essere? Nella misura in cui è presente Renzi anche di poco il PD non recupera, è di una a sua volta virulenza quasi salviniana diciamo. In altri termini lo stile è lo stesso, è uno stile che non ritorna mai su se stesso, che non fa mai autocritica, con un ego infinitamente incapace di dialogare con chiunque. Si va verso un pericolo enorme che non avendo il PD un richiamo sufficientemente convincente per tutti quelli che erano scappati, quelli che erano scappati non torneranno ma voteranno scatabianca e questa sarà la vittoria di Salvini.